ah ah non è andato non è andato ahahah non mi cagano no io adesso penso che lo sei lo sei scritto su sky eh non sono anche scritto su sky bravo così lo stiamo guardando lo stiamo a chiamare lo trovo mi è piaciuto ma hai visto la foto? sei entrato? che cosa? su skype no che vero